Ministorie, dvb, ogni ambiente è evolutivo. Le mie finestre danno su un crocevia di Napoli, molto trafficato, dove ogni giorno capitano molti incidenti, anche mortali. Un'agenzia di pompe funebri mi dà 50 euro se gli avviso di un incidente mortale. Commento. Ogni ambiente evolutivo, in questo caso ogni città, vive di una forma pensiera alimentata da tutti coloro che l'hanno abitata e che la abitano. Tale forma pensiero forma ed informa continuamente di sé i suoi abitanti.